5 4 3 2 1 inizia il viaggio Lei la vedo proprio che mi si presenta sotto forma di bambina di famiglia Adams mercoledì però la cosa diversa intanto mi fa vedere che viaggia con nella tasca una gomma da cancellare però lei non è che vive dentro la famiglia Adams vive in una famiglia normale ok ti dà l'autorizzazione si dimostra questa gomba mi fa vedere che vuole iniziare a cancellare delle parti della sua vita riscriverle perfetto iniziamo la storia c'era una volta cosa ti suggerisce claudia dopo c'era una volta una bambina potenzialmente molto dotata psichicamente però che ha scelto una famiglia mediocre da questo punto di vista come consapevolezza e come facoltà psichiche e da qui è iniziato tutto un suo viaggio di allontanamento di claudia sempre di più da se stessa dalla parte più profonda di se stessa beh strano perché queste premesse sono quelle ideali per un grande salto evolutivo infatti è lei oggi con noi vibrazione e 78 miliardi consapevolezza 132 ps 37 dite 2853 cervello o capacità mediane 8 ok valori di inizio lavoro buoni discreti discreti non buoni consapevolezza fosse bassa chiesa un po in vacanza tante vite capacità medianiche discrete nome del progetto di claudia allora mi fa vedere tipo come se fosse un furgone militare blindato e con sopra scritto cioè non riesca a capire se gli usa i di parcio o di parment potrebbe essere entrambe le cose ok qui la seconda domanda che mi viene da farti è abductions si quanto mi sono dimenticata anche di chiederle se lei ha qualche intolleranza alimentare perché mi è venuto tipo un pianeta che si chiama corn che è mais no allora ho pensato poi vengono altri alimenti no allora mi sono chiesto se magari lei non ne ha pare che non ne ha non ne ha boh allora è semplicemente hanno utilizzato degli alimenti di con di consumo naturale diciamo così consueto e penso per creare una sorta di familiarità nei suoi confronti e quando crei familiarità ti puoi nascondere celare meglio direi questo quante sono state e sono queste io le vedo già fin da bambina tipo che lei già poteva avere tre o quattro anni anche che lei poteva avere anche delle ottime capacità per esempio di vedere anche altre forme energetiche e questo per questo lei è stata molto interessante fin dall'inizio no quindi inizialmente potevano essere uno o due al mese quando era piccolina poi preadolescenza adolescenza fino a venticinque anni anche tre a settimana e poi un po cambiava mi fa vedere erano più due tipo a settimana negli ultimi tipo cinque anni tre cinque anni di meno sono più occasionali con che scopo qua lo vedo abbastanza classico tra virgolette cercare di capire come lei potesse avere naturalmente certe facoltà diciamo empatiche telepatiche che poi proprio nel momento in cui sono state poste sotto osservazione sotto studio sono state invece soffocate e poi anche proprio io vedo degli esperimenti di tipo riproduttivo di che tipo? vedere come si potesse creare una creatura ibrida umana e aliena dove di base c'erano le stesse caratteristiche cioè anche questi alieni hanno una forma di telepatia ma hanno una forma di telepatia unicamente legata alla mente la forma di telepatia che per esempio ha Claudia non è legata solo alla mente ok ma all'anima e al cuore cercare di vedere in che modo una creatura che possiede entrambe le componenti biologiche cosa ne viene fuori se sviluppa ancora in maniera più affinata certe qualità rispetto a quello che hai visto da quando collaboriamo insieme Monica che percentuale di persone hai visto è interessata da d'action o in generale da quello che puoi vedere adesso in eterico direi più dell'ottanta per cento ok è perché la persona con cui ha iniziato il suo percorso Claudia che prima ha citato parla di percentuali molto più basse non è un'informazione che deve essere divulgata nella sua totale verità sicché solamente poche persone possono avere il sospetto no la maggior parte dice vabbè ma non sarò anch'io visto che la percentuale così bassa non sarei non ricordo i sogni esatto non ricordi segni non ho visto segni sul corpo insomma una valanga di cazzate e non ho avuto sogni è proprio invece una spia nel senso che potenzialmente invece Claudia un'attività onirica molto fertile infatti lei stessa dice che lei ottiene delle risposte durante il sonno però i sogni non se li ricorda appositamente proprio perché se si ricordasse ciò che avviene di notte si ricorderebbe anche l'esperienza dell'abduction chiamiamo nel cinema la sorella ed il compagno hanno anche in un certo senso hanno anche dei punti in comune sai la sorella e il compagno come se entrambi fossero molto legati al tra virgolette sistema che nel caso del compagno è proprio un sistema come punto di riferimento sociale e di attualità e per quanto riguarda la sorella è più un sistema familiare di comportamento di stereotipi però è come se si sono entrambi molto conformati vengono e c'è per esempio curiosità da parte della sorella ma perché è come se si sentisse che sta un po' già nell'altra soglia no? e allora vuole dare una sbierciata c'è nel tuo sogno c'è in là con gli anni sì sì mentre per quanto riguarda il compagno viene con una sorta di tra virgolette senso di sfida voglio proprio vedere che cosa si dice qua dentro rispetto a quello che io ritengo essere vero vedo che è anche uno che ama paragonare confrontare no? cercare proprio di capire che lui ha capito bene secondo Claudia è il suo compagno e secondo lui è il suo compagno Claudia cioè la sua compagna Claudia guarda non è così sbagliato dire compagno perché è come quasi potessero essere compagni di scuola compagni di scuola nel senso in questo caso scuola vita ma non è compagno amoroso sentimentale compagno sì è giusto perché ama altre donne non è la donna ideale per lui e vedo tra l'altro che ha anche lui proprio una sua spiccata femminilità che tutto sommato è anche ben capita da Claudia ben accolta cioè lui si sente comunque accolto da lei non si sente giudicato quindi lui sta anche tra virgolette bene con lei però ovviamente perché non è giudicato sì no perché è giudicato perché non si sente giudicato di cosa dovrebbe essere giudicato sai comunque allora anche lui non è sì non è giovanissimo no quindi appartiene comunque a una generazione in cui quella scelta veniva accettata con più difficoltà quindi lui si porta molto dietro anche questo retaggio indubbiamente le sue difficoltà le ha avute nel provare ad affermare se stesso non ci è mai riuscito completamente sempre stato un po' nascosto da questo punto di vista con Claudia lui si sente piuttosto al sicuro piuttosto protetto ok quindi vengono entrambi causa esoterica del maltrattamento da parte della sorella di Claudia da sempre da bambini ok da bambini da sempre anche oggi cenerottola ma Claudia più che cenerentro io la vedo proprio aliena cioè l'aliena di casa e proprio come non facente parte della famiglia quasi come sei tipo la figlia adottata che non è stata una figlia adottata però percepita proprio come un corpo estraneo dentro la famiglia perché ha una consapevolezza diversa sì 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 e vedo proprio che lei non non avrebbe potuto esprimere il la sua sensibilità lì all'interno perché è proprio un altro livello di esistere quello del quello che è stato del padre quello che è quello della sorella è proprio più se vogliamo materico e per certi aspetti anche un po' più becero ok un po' più elementare ecco anche un po' più squallido no nel suo essere elementare anche nel cadere in qualcosa di più basso ci sono delle vite precedenti che legano la sorella a Claudia ah vedi mi fa vedere che sono tipo due biologhe e già mi fa vedere questo scarto di consapevolezza mentre Claudia vuole provare a dare una chiave di lettura un pochino più profonda di quello che stanno analizzando al microscopio la sorella no vuole stare di più negli standard già noti conosciuti anche in questa vita mi fa vedere che non amava esplorare ciò che è ignoto e Claudia è come ora esattamente il contrario lei invece è molto attratta da ciò che è ignoto un'altra? qua quasi non so molto caccia con la fiocina tipo sembrano degli schimesi che cacciano i pesci nel ghiaccio ma la sorella ha una PS? sì se ti risponde perché potrebbe anche non risponderti ti può chiedere ti può dire il motivo per cui si è incarnata in queste condizioni dare il tormento alla sorella allora la PS della sorella mi fa vedere esattamente come mi ha proposto un iglu di un eschimese quindi la PS è come se battesse i pugni contro questo strato di ghiaccio e quindi in verità la scelta della PS è stata quella di avere una sorella con una consapevolezza maggiore per tentare di incrementare la propria di consapevolezza non per dare il tormento a lei sono d'accordo perché la scelta della PS di Claudia è evidente no? con una sorella oppositiva e non bacini, bacetti, io ti pettino, mi presti i vestiti, siamo sorelle, siamo amiche, siamo sempre in giro insieme scarsa consapevolezza, scarse sfide, poca crescita o crescita da altri fronti con una sorella oppositiva oggi Claudia è qui qualcuno direbbe più tardi che mai, meglio tardi che mai, ma non fa niente, è qui e ha avuto una serie di sfide che ha vinto una dietro l'altra ma il punto di vista della sorella come PS francamente è ok come attore che serve a Claudia per evolversi, sì ma siccome ha anche lei una PS e quindi da quelli glu oggi non vuole uscire mi fa vedere che è come se avesse creato uno spioncino quindi riesce a guardare attraverso questo piccolo buco però di fatto l'iglu è tutto lì intatto ma almeno questo spioncino l'ha creato perché comunque nel corso degli anni Claudia benché insomma apparentemente sembra che non sia cambiato niente nel loro rapporto un qualche semino del dubbio così l'ha instillato nella sorella però dirti che rompe tutto l'iglu non mi pare proprio perfetto entità eteriche vediamo se le ha secondo la valanga di cazzate molti non hanno interferenze non è il suo caso mi fa vedere due del secondo universo in particolar modo tipo come se fossero le corna di un capriolo e l'altro è tipo un sorcio molto scuro molto peloso questo per il secondo universo per il primo universo mi fa vedere un puma di nuovo c'è questo colore nero il nero me lo propone spesso fin dall'inizio da quando mi si è vestita come mercoledì e poi mi fa vedere tipo ha un insettoide un po' più d'occhio sembra più o meno va bene queste interferenze di questi alieni corn e da corna o corna da mais e mais si però gioca allo stesso tempo con la parola corna tutte e due le cose e poi 3 dl ok entità mentale mentre le vedi scrivimelo claudia il tuo compagno diciamo è cinivaccato sì no 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 ho visto mentali perché sorella tutta la sua famiglia la famiglia sorella tutto cini uova latte fresco e urlo l'urlo mi fa vedere il quadro di munch un po' si sono modificate già nel tempo specialmente ti dico gli ultimi forse cinque anni sono stati importanti per lei nel senso che lei ha sempre avuto una predisposizione all'auto osservazione all'introspezione però per un certo periodo della sua vita è stato molto sulla mente e su più o meno l'inconscio adesso è andato più sull'anima quindi mi fa vedere che attualmente le uova sono sul 3 4 latte fresco tipo 5 e l'urlo anche quello mi fa vedere mutato adesso potrebbe essere più intorno al 4 in passato può essere anche stato intorno al 6 7 quando era bambina di più anche 8 ok mi ripeti uova che significa che che entità mentale è uova mi fa vedere proprio lei con questo oggetto molto fragile in mano e questa sua paura di rompere questo uovo ed è proprio questa sua paura che fa sì che lei rompa l'uovo e infatti lei quando si ritrova magari un progetto che sta nascendo quindi ovviamente delicato e da curare da maneggiare con cura eccetera si auto boicotta sì che lo distrugge quindi lascia andare questo uovo che si spatascia giù per terra anche se poi nella realtà lei ottiene risultato dal dal progetto che si auto boicotta quindi c'è fatto l'esempio di una cucciolata non voleva farla nel corso della cucciolata diceva no ma verrà una schifezza ma poi la sterilizzo la cagnetta eccetera e invece la cucciolata è stata un successo tutti i campioni e così via e altri esempi sì però per esempio per quanto riguarda la sua personale realizzazione proprio di sé come persona come donna è più su questo nel senso che quando lei fa un progetto che potrebbe darle una svolta nella vita anche se fosse una conoscenza con un uomo e lei poi non non la porta a termine non la porta avanti la lascia cadere a terra così come è stata per esempio nella creazione dei suoi gioielli era brava era portata stava iniziando bene eccetera e la lascia cadere secondo me lei ha avuto anche occasioni che potevano essere vere no di creare un rapporto vero con gli uomini ma le ha lasciate cadere e quindi oggi si è rifugiata in questa relazione sì da molti anni però nel corso di questi anni ha avuto altre possibilità ma ha scelto niente di lasciarle andare via così non si ritrova con niente poi no? c'è una connessione tra la sorella e questa entità mentale uova nel senso la sorella è oppositiva su questo fatto sull'autoboycottarsi invece è un'alleata certo è come se a livello eterico fosse una che ce l'ha particolarmente verso questo tipo di entità mentale in un certo senso appunto la sorella la rinforza ok poiché si oppone sempre a quello che Claudia vuole io vedo anche come sottrazione quasi di spazio no? cioè se Claudia che ne so voleva ritagliarsi dello spazio per sé la usavano anche un po' come serva di famiglia tipo no? hai capito? quindi lei aveva anche meno spazio meno tempo a propria disposizione proprio nel soffocarla no? di qual era il suo talento quindi di fatto è come se la sorella la andasse a rinforzare questa entità mentale latte fresco latte fresco questo qua mi fa vedere proprio la bottiglia di vetro senza il tappo come se in certo senso lei percepisse che c'è qualcosa che sta per scadere che deve fare in fretta fammi un esempio ci sono una serie di situazioni intorno a sé che lei ha questa percezione che ormai sono lì per essere scadute se non già scadute ok? e quindi che devono essere risolte però è come se rimanesse ferma lì cioè con il latte ancora dentro il vaso di vetro non lo consuma di fatto ha iniziato ad aprire il tappo sa che tra poco scade perché questo latte è fresco ma non ha iniziato a vuotare ha iniziato a berlo cioè no? per portare a compimento la situazione rimane così in sospesa sapendo che comunque sta cadendo i tempi urlo questo è come se ci fosse una specie di collegamento con le sue abduction e come nelle abduction di cui lei non ha minimamente ricordo ha proprio questi urli soffocati così anche nella vita si è trovata in diverse circostanze in cui ha dovuto proprio un po' reprimere e soffocare il proprio urlo la propria frustrazione che avrebbe proprio voluto in un certo senso gridare i 420 ma quasi nella consapevolezza che tanto nessuno l'avrebbe ascoltata ovviamente i familiari non le avrebbero dato retta perché sono tutti chiusi nel loro mondo molto pratico molto fatto anche di cose basse elementari e poi d'altronde si è anche proprio creata una relazione che dura da tanti anni in cui lei soffoca proprio se stessa l'espressione più importante di se stessa sia nella propria sessualità sia proprio nel proprio modo di essere perché lei ha tutta una serie di interessi diciamo di energie sottili ed esoterici che non può condividere con quest'uomo quindi c'è proprio un soffocamento su più livelli va bene impianti sono queste le tre entità no? mentali sì impianti ma lo fa vedere così un po' terrorifico questo impianto cioè che l'impianto mentale me lo dà proprio un po' tipo un cappello che la schiaccia le schiaccia un po' la testa no? proprio calcato bene in profondità poi mi fa vedere tipo con gli occhi gli stecchini sai tipo arancia meccanica c'è rotto sulla bocca dietro i polsi legati dietro la schiena genitali e addome la varanga di cazzate direbbe eh gli alieni cattivi fanno gli esperimenti ci dobbiamo liberare noi umanità siamo prigionieri io dico è Claudia che l'ha voluto perché? usando queste entità alieni quello che volete come servi schiavi che le facessero in qualche modo scoprire la sua mente a 360 gradi perché lei nella sua vita eh diciamo diurna chiamiamola così no? ha scelto di ehm fare una sorta di introspezione psicologica psicanalitica ok? per comprendere alcune cose di sé ma non bastava perché comunque si fermava ad un certo livello anche molto ehm superficiale lei stessa sentiva di aver preso solamente la punta dell'iceberg e quindi si è voluta concedere questa esperienza di abduction per comprendere la vastità proprio dell'esperienza della mente quindi non inteso solamente come mente o conscia o inconscia o cose del genere no? ma proprio ehm una mente intesa proprio come intelligenza globale no? quindi eh che ha comunicazione con l'anima ma vedo che questa anima non era riuscita ad afferrarla tipo in tutto questo suo percorso psicoanalitico quindi l'ideale è proprio avere a che fare con persone interessate alla tua anima no? quindi con persone scusami con creature interessate alla tua anima no? quindi con le abduction ah ok in quel senso portale aureo è chiamata per padre madre tata la vera madre ci dice claudia che ha avuto il papà la mamma e la figlia grande erano da un lato e lei passava le giornate con la tata dall'altro probabilmente in cucina o dove stava la tata infatti comunque a parte che mi viene molto stancala credo che sia una donna che ha lavorato molto nel corso della vita quindi ha proprio conservato questa stanchezza e come se penso che abbia lavorato a tal punto che abbia decisamente poco coltivato la propria vita personale quindi alla fin della fiera che cosa gli è rimasto niente di suo e quindi la vedo in questa cosa di stanchezza e secondo me ha fatto molto bene a chiamarla perché non vedo che da quando è morta ha avuto chissà quale scatto evolutivo non so come dirti la vedo un po' congelata lì dove spesso mi chiedono dove sono i disincarnati sono nell'aldilà dov'è molto complessa questa risposta vediamo cosa cosa mi dici mi fa vedere una scala nel senso che però mi sembrerebbe addirittura la scala di un'abitazione bella non so se lei lavorava anche per famiglie di un certo prestigio e non so se può aver lavorato per una famiglia che aveva una casa simile e alla quale lei si è affezionata perché la casa in sé per sé era proprio un sogno no? sì 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 adesso non so se è quella di Claudia o quella è la vostra è un sogno capito? cioè per una domestica adesso non è che voglio svilire così però capito cioè la casa in sé per sé era proprio l'ideale per lei il modo dei sogni una favola sì quella che avrebbe ovviamente voluto per sé no? ma non poteva essere per sé e secondo me non concepiva neanche di potersela meritare apriamo accanto alla Tata si è lavorato con loro 40 anni uno schermo e facciamole vedere vediamola insieme vite se ci sono che legano Claudia a lei questo rapporto quasi genitoriale in una in effetti era Claudia la mamma e lei la figlia e mi fa vedere una buona mamma forse un po' troppo protettiva nel senso che vedo che questa bambina è socialmente un po' più indietro rispetto alle altre perché non le fa fare tante esperienze però comunque c'è molto affetto molto amore anche se non molto equilibrio con l'esterno diciamo la loro unione è molto forte sorelle sorelle la più grande è la tata rapporto abbastanza normale un po' di litigio un po' di affetto questo molto normale mi fa vedere che raccolgono insieme qualcosa poi lo tagliano lo mettono nei vasetti forse delle produzioni piccole familiari però qua non lo so che rapporto c'è fra loro due Vic alla tata ma io non ho avuto niente di mio ho vissuto le vite degli altri cioè ho fatto in modo che gli altri vivessero la loro vita non vivendo io la mia in questo film sì e lo vedo cosa vede vede il film o vede l'insegnamento di questo film vede l'insegnamento tanto che aspetta quasi ansiosamente la prossima vita per viverlo lei in prima persona anche lei vivere la sua vita personale non solo agevolare le vite altrui quindi vuole andare avanti con un altro film o può smettere con il film è come se lei sentissi forte il desiderio cioè la talmente tanto respirata questa ricchezza diciamo così questa bellezza sì esatto c'è che vorrebbe viverla per sé cioè io glielo sento forte questo desiderio che vuole fare ancora questa esperienza qua anche se è finta anche se è finta ma dove lei è la protagonista è roba sua quella lei è mai scapitato in altre vite passate così molto in là è come se perché mi fa vedere in là sarà 1600 una roba del genere però per esempio muore molto giovane perché mi fa vedere che ha tipo 13 anni 14 anni quindi di fatto si è goduta ben poco di questa ricchezza va bene messaggio dell'attata e a claudia e la salutiamo io so che tu l'hai sentito il mio affetto ho sempre cercato di trattarvi nella stessa maniera tu e tua sorella ma adesso ti dico che forse la mia preferita eri tu mi facevi una gran tenerezza con quegli occhioni e mi dà questa immagine dove c'è claudia che è ancora piccola che si attacca alle ginocchia della tata tipo che l'abbraccia così ma anche se poi loro sono stati insieme quando lei era anche più grande però mi regala questa immagine qua di quando lei era piccola la tata ha visto aveva visto la rivalità tra le sorelle sì la considerava normale perché a volte spiegarti sai che cosa quasi una donna di altri tempi in cui sta fuori dal giudizio di queste cose non so mi devo impicciare sì perché sarebbe comunque mettersi contro chi la paga anche perché il padre era da quell'altra parte la salutiamo e un passo in avanti padre e madre non li vedo molto uniti non so come erano in vita ma al momento proprio come se ognuno avesse un po' il proprio da fare i propri fatti propri cosa vogliono dire a chi vuole parlare per primo la patria sembra un po' risentita qualcosa del tipo ma non te ne fregava neanche niente di avere a che fare con me di sentire cosa volevo dire padre la madre la madre la madre si non mi aveva interpellata vabbè questa è l'occasione per dirsi le cose da anima ad anima mi dà come la sensazione di una donna molto bambina cioè nel senso che metteva in atto delle dinamiche un po' infantili anche nei confronti di Claudia cioè non si comportava da donna matura hai capito che poi per carità può essere una donna fredda tutto quello che vuoi distante no feeling eccetera ma proprio mi dà invece l'impressione di una anche un po non so come spiegarti capricciosa un po' ripicca un po' io non credo che Claudia vorrà mettere il viso vero vuoi la censura del viso o no no te ne fregno la puoi lasciare la vuole la censura ok allora vi dico quelli che si guardano il video è che tutto un sì un sì di me scrive vero tutte queste sfumature sono tutte assolutamente in tempo reale confermate da lei bene e il padre dunque il padre è come se avesse una specie di schermo un po' difficile da spiegare l'uomo medio medio man nel senso che un uomo per carità si è fatto si è fatto no anche lavorativamente parlando si è fatto il suo mazzo no si è dato il suo bel da fare ha creato la famiglia la casa però molto irregimentato molto inquadrato molto manipolato dal sistema non so come dire di che entrambi se la vogliono e se la prendono guarda se fino a un certo punto c'è la tata era molto diversa ok ce la vedo proprio questa questa possibilità in queste prospettive multiple loro due un po' più congelati sai quindi non la prendono cioè come se prendendola non hanno un'esplosione di consapevolezza un pezzettino diciamo così scende giù ok però non c'è il disvelamento totale dell'anima e della consapevolezza va bene se ne mettono in tasca sbocconcellata appena e vediamo se vanno nel portale Aureo se hanno questo desiderio almeno di andare a vedere com'è e poi al limite se non è il caso possono tornare indietro sì un po' non so se era il padre che era attaccato ai soldi perché parla di un uomo d'affari come se vorresse di nuovo una vita un po' di nuovo così ma meglio ancora di più ancora ma quindi non entra e sì sì perché è come se fosse desideroso perché come è un po' strano a dirti nel senso che prima del portale Aureo lui cioè secondo me non è che ha capito bene che cos'è sto portale Aureo cioè come se avesse pensato bene io entro nel portale Aureo pronto per la prossima vita che sarà ancora più di successo no seguiamolo quindi entra che succede quella specie di schermo che c'aveva ovviamente svanisce no quello scopo che aveva intorno quindi che vuole fare ritornare indietro resta dello stesso avviso o cambia avviso dentro ma adesso mi sta facendo vedere una lapide lei non ci va mai al cimitero vero? no sta roba è a lui secca non lo so perché mi parla di ste robe che diceva al portale Aureo vai a raccontarmi robe che sono quisquiglie no alla fine? la donna delle quisquiglie sei? c'è una sessione che si titola quisquiglie dovuta a Monica probabilmente sai che cosa succede che adesso proprio perché si sta spogliando di tutte queste cose me le tira fuori arrivando proprio al momento terminale quindi quello lì in cui lui è là sotto allora mi ha fatto vedere questa roba qui però in effetti ti devo dire che ora lo sento già diverso come se lui mi ha fatto vedere quest'ultimo aspetto infatti non mi ha più fatto vedere delle cose della vita mi fa vedere la lapide sì questa amarezza questa roba qui però come se fosse ok chiuso capitolo ok io adesso lo sto vedendo che fluttua un po' di smarrimento c'è? vedo che sta andando a cercare qualcuno c'è un risentimento da parte di Claudia verso il padre eh vabbè chiaro certo dove lo vedi in Claudia mentre il padre fa tutte le sue cose che deve fare colicisti mi viene proprio fegato sai anche analizziamo il corpo emozionale di Claudia a basse frequenze ovviamente sì perché questa entità mentale che lei ha urlo che è il soffocamento che è la repressione è anche fatto proprio di rabbia quindi viene repressa la propria rabbia la propria frustrazione i propri tra virgolette reclami che voleva fare non non ha potuto fare perché tanto rimaneva inascoltata è proprio questo rosso bordeaux mattone che mi dà proprio questa sensazione di bello infiammato infuocato ma c'è anche io vedo rabbia verso se stessa però eh perché a volte ha proprio avuto la voglia di ribaltare la sua vita e è arrabbiata verso se stessa perché non è riuscita a prendere quella iniziativa per farla per farlo va bene salutiamo il padre messaggio finale salutiamo la madre messaggio finale se ci rivediamo ti assicuro che sarà tutto molto diverso il padre sì il padre questo sì e la madre è stata un'ottima occasione per entrambe la madre va nel portale aureo sì 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 come ci va come volersi togliere questa vestaglia io la chiamerei no davanti al portale aureo si toglie questa vestaglia ed era proprio questa vestaglia non so la vedo un po' rosa un po' leziosa un po' infantile no perché abbandona proprio questo suo aspetto anche di non so forse a volte era un po' capricciosa reclamava lei le attenzioni questa roba qui la lascia lì davanti al portale aureo liberandosi quindi no di questa componente di sé un fagotto e vedo che nel momento in cui entra è come se venisse avvolta dalla dal vissuto dell'amore che è come se lei nella vita quella vissuta con Claudia non fosse riuscita a vivere no va bene lo chiudiamo e li salutiamo Monica causa esoterica del far sentirsi cenerento l'estranea del rapporto con la sorella l'abbiamo visto dell'autoboycottarsi l'abbiamo visto dei problemi diciamo legati alla procreazione quindi l'aborto volontario la gravidanza extrauterina e il gemello cosiddetto gemello assorbito secondo me sono proprio tutte queste abduction dove ti dicevo che proprio c'era il tentativo di creare questa creatura ibrida che avesse la telepatia aliena diciamo così che è di una certa natura e la telepatia di Claudia che è di tutt'altra natura fonderle insieme e creare una creatura speciale tentativi ovviamente non andati a buon fine perché c'è la PS di Claudia che non ha permesso questo perché sa che non è quello che lei vuole cioè lei vuole portare avanti le proprie facoltà le proprie doti psichiche ma non certo in questo modo cioè non ha bisogno di questo supporto di telepatia artificiale aliena capito quello le serviva solo per riuscire ad approcciare se stessa con maggiore profondità e vastità perché lei già ci aveva provato ma con gli strumenti che aveva avuto a disposizione non era riuscita ad arrivare più di tanto in profondità era rimasta un po' incastrata in superficie e il gemello assorbito io lo vedo proprio come questa inseminazione da parte aliena per creare sono due momenti diversi quello che è stato l'aborto spontaneo e questo questo esserino chiamiamolo così però sono entrambi due tentativi io vedo di questo genere laddove nel primo caso era come se l'intervento aliena avrebbe più che altro dovuto essere successivo cioè nel momento del parto mentre quello della colicisti era proprio dal principio proprio come fecondazione diretta però entrambi che vedono lo zampino alieno c'era una ps collegata a quell'aborto sì dov'è sì sì è andata a fare altro sì sono anche passati davvero anni tantissimi anni me lo fa vedere più o meno in Thailandia sempre già reincarnato sì 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 è il gemello assorbito che è stato poi tolto come ciste no non ce l'aveva no non aveva ps ha avuto delle conseguenze nella vita di Claudia ti dirò ti dirò forse una maggiore libertà di pensiero perché come se si fosse davvero liberata di un qualcosa di oggettivamente non suo di alieno e che è come se gli avesse dato uno sprint in più perché quello era un po' un freno toglierlo invece l'ha un po' sbloccata va bene Monica esiste la fiamma di Claudia e se è quella che ha in casa è quella che ha in casa quello è un compagno ed è giusto definirlo così compagno amico eccetera ok ci siamo quando tu mi fai questa domanda lei mi fa vedere questo e il suo bottiglia di latte perché ha paura no dice ma il tempo per me qua sta per c'è capito quasi sembra tardi per bere questo latte che in questo momento è l'esperienza fiamma ecco come se ci fosse in lei questa paura allora secondo me lei ha avuto degli incontri significativi in passato li ha scartati attualmente lei deve sistemare questa situazione quale questa con quello che lei chiama compagna dargli il giusto confine dopo di che si possono aprire altre possibilità sì 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 lei le ha previste in questa incarnazione se le concede in questa incarnazione mi fa vedere due mi fa vedere il bivio mi fa vedere un bivio in cui lei una strada scusami in cui lei è fino alla fine dei suoi giorni a vivere e a condividere cose momenti con questo attuale l'altra strada in cui lei chiarisce rimanendo comunque in buoni rapporti ottimi direi però all'insegna dell'autenticità ognuno fa la propria vita sentimentale consapevolezza della Claudia 1 e della Claudia 2 a fine vita un terzo mi fa vedere mi fa vedere la proporzione un terzo per quella che rimane incastrata lì nella situazione mentre l'altra aumenta di due volte acquisisce due volte la consapevolezza che ha la prima giusto tanta roba acquisisce due terzi sì anche perché comunque un riscatto è il coraggio anche che tira fuori mentre per tutta la vita ha fatto quell'urlo lì soffocato non c'è bisogno di urlare c'è bisogno di chiudere la bocca e agire e non non hai più quella frustrazione e insoddisfazione dentro quindi non c'hai bisogno di urlare e nella Claudia 2 dove ci sono infinite Claudie c'è una Claudia con la fiamma sì tipo non so se lei ama perché mi fa vedere più di una perché una me la fa vedere legata a un'esperienza aromatica non so cosa voglia dire è qualcosa di olfattivo come se c'entrasse l'olfatto con questa fiamma e l'altra che è un'altra possibilità è più legata a mostre barra musei biblioteche cose così e tra le infinite Claudia 1 esiste la fiamma la possibilità di incontrare la fiamma sì queste due io dico no nella Claudia 1 dove resta fedele all'attuale ah scusami eh no lì non cioè vedo che magari tipo fa di nuovo un incontro e poi di nuovo lo scarta come ha fatto in passato va bene ultima domanda causa esoterica dei problemi economici che la limitano problemi economici cioè mi dà più come se lei dovesse fare degli aggiustamenti cioè non mi dà proprio sostanziali radicali come se se mette in un ordine diverso in una sistemazione diversa delle cose si aggiustano non so se deve dividere delle cose deve vendere delle cose per mutare proprio sostanzialmente la sua situazione cosa vuole fare Claudia tenersi le entità mentali allora in questo momento Claudia ha un pienone in testa eh eh aspetta un attimo cosa faccio dove vado eh ditemi voi un attimo ok in questa incarnazione allora il suo il suo progetto era USA Department o qualcosa del genere lei ha deciso di fare tutto quello che abbiamo visto tutto quello che lei ha visto come vita tutto quello che ne abbiamo visto in eterico tutto questo comporta dei contratti che lei stabilisce con se stessa usando schiavi entità e questi contratti sono in un posto eterico un posto pieno di contratti puoi vederli come uova puoi vederli come uova del film alien lei li può togliere cambiare vita girare pagina non infilarsi in una vita utopia utopistica quella non esiste sulla terra ma cambiare capitolo cambiare disco usare una melodia un disco con una melodia più bella fare un salto cambiare è curioso perché quando hai parlato delle uova mi stava facendo vedere i suoi contratti fatti tipo come dei grappoli d'uva ma gli acini erano proprio molto simili a delle uova e intanto sentivo che lei mi diceva tipo la volpe quando non arriva all'uva dice che è acida non so se è un'espressione che lei usa che le suggerisce qualche cosa e ce ne sono diversi ecco qualche grappolo così con tutti i suoi acini alcuni sono proprio molto andati hanno appassiti marci quindi cosa fa come se volesse mettere mi fa vedere in una busta da lettere ed è un'idea curiosa mi piace l'idea che una roba così materiale come potrebbero essere appunto gli acini lei li mette dentro una lettera perché ovviamente ha compreso che tutto quanto è assolutamente un gioco quindi si può fare e vedo che questa lettera chiamiamola così la imbuca nel portale definitivo che sembra proprio una cassetta delle lettere quindi non ha più contratti c'è sono un paio d'acini sono rimasti ritiene è come se mi facesse capire che ha bisogno di sviscerare altre cose ci sono rimasti un po' dei sassolini nelle scarpe qualche cosa di non compreso è un po' il discorso che abbiamo fatto diverse volte che nella prima sessione fai la sgrossatura però poi bisogna andare un pochino più in profondità successivamente ecco va bene facciamo un gioco li tolga tutti senza lasciare neanche uno e poi vedremo più avanti cosa succederà va bene mi fido dice si può fare togliamoli tutti e ci dica come si sente dopo aver tolto tutti i contratti che la legano a questo impianto interferente in questo momento e dopo aver eliminato anche l'avatar il fantoccio che gestisce tutte le sue 2853 vite si ha un aspetto ha un aspetto un po' militare un po' sergente e questo vedo proprio che lo rimuove con gran soddisfazione e in effetti non pensavo ci si potesse sentire così bene dice dubbi ne ho ancora però sto decisamente meglio eliminato anche un po' quasi spiancata che diceva adesso magari mi sei mi siete un po' mi ha eliminato tutto se se è un lavorone per lei bene se vuole mettere un artefatto energetico in questi due posti a firma c'era l'acca diciamo il sigillo di quanto fatto lo può fare me lo fa sotto forma di note musicali il suono mi piace ma d'eterno un musicale che vale così come hai detto tu come suggellamento un soggello di del lavoro fatto e protezione benissimo esiste ancora qualcosa quindi di differenze impianti up d'action progetto mi fa vedere lei proprio sfinita sulla se una poltroncina tipo no finita dice mamma mia che lavoro di pulizia che ha fatto con le bar le braccia ciondoloni è esatto cosa vuole dire se allora come messaggio finale no vabbè sembra una battuta no no perché dice mi davo tanto da fare in casa adesso mi do da fare per fare delle pulizie per me no interiori e per il futuro cosa si vuole dire ho voglia di regalarmi una vita bella e realmente profondamente soddisfacente è un contratto che fa con se stessa si è un paio un accordo se un patto sì 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 ok messaggio di una parola due massimo al compagno stiamo per comprendere il senso della libertà alla sorella c'è un caso disperato immagine finale c'è ancora mercoledì degli adams no c'è una dahlia la dahlia rosa bellissima sto per chiederti il colore va bene abbiamo finito